abbiamo deciso di ospitare e di organizzare anche quest'anno una lezione summer festival del Ponte Della Gemini Festival no non esattamente summer festival che edizione siamo che sta diventando una piacevole abitudine questa è la terza edizione annuale diciamo che la terza edizione estiva quindi un festival che si conferma anche in un anno difficile come quello che abbiamo appena trascorso e che stiamo passando ma che è la conferma di un impegno preciso da parte dell'Accademia Museale Ponte Della e Museo Piaggio che si arricchisce quest'anno di alcune collaborazioni importanti come quella di Fanet o quella dell'Orchestra Ferrarmonica Cuciniana e quindi un cartellone che doveva essere più contenuto quello estivo in realtà si prefigura con 15 appuntamenti che appunto avvieteranno le serate estive da da luglio fino a settembre oltre Fonecche peraltro è una riconferma e festival che non si sente rotto nemmeno nella stagione invernale ma è comunque continuato pure non in presenza mentre in questo caso si parte in presenza festival che partirà dal? Siamo partiti lo scorso sabato la prossima settimana ci saranno quattro appuntamenti e alcuni fitti per il mese di luglio poi una pausa in mezzo all'estate poi da metà agosto a metà settembre appuntamenti che saranno in parte all'Oditorium di Museo Piaggio e al Giardino della Villa Crasta aspettando il nuovo auditorium della musica ci siamo insomma sarà da settembre sì ma questo è un altro capitolo grazie 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 grazie